Ma qualcuno può domandarsi, ma perché il Papa va dai musulmani e non solamente dai cattolici? Perché sono tante religioni e come mai ci sono tante religioni? Ma con i musulmani siamo descendenti dello stesso padre, Abramo, no? Ma perché Dio permette che ci siano tante religioni? Ma Dio ha voluto permettere questo. I teologi della scolastica dicevano la volontà spermissiva di Dio. Ha voluto permettere questa realtà. Ci sono tante religioni, alcuni nascono dalla cultura, ma sempre guardano il cielo, guardano Dio. Ma quello che Dio vuole è la fratellanza fra noi. E in modo speciale per questo viaggio con i nostri fratelli, figli di Abramo, come noi, i musulmani. Non dobbiamo spaventarci della differenza. Dio ha permesso questo. Ma sì, dobbiamo spaventarsi se noi non facciamo lavori di fratellanza, di andare insieme sulla vita. Grazie. 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 Grazie a tutti